I Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare di cui 4 in carcere e 1 agli arresti domiciliari, emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti gravemente indiziati di associazione finalizzata al traffico illecito, spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. L'indagine condotta dai militari della Compagnia di Marano di Napoli ha permesso di ricostruire un'organizzazione criminale dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti operanti a Marano di Napoli e Calvizzano. Il business della droga veniva realizzato seguendo prevalentemente due canali, il primo fondato su una vendita statica dello stupefacente, il secondo invece basato su un canale dinamico. La vendita statica avveniva all'interno di due piazze di spaccio esistenti a Marano di Napoli di fronte alla chiesa di San Ludovico D'Angio e in un'enoteca gestita da uno degli arrestati. luoghi di ritrovo frequentati per lo più da giovani. Lo spaccio avveniva anche grazie all'aiuto di alcuni fiancheggiatori che avevano il compito di avvisare i pusheri in caso di controlli da parte delle forze di polizia. La vendita dinamica invece avveniva mediante appuntamenti concordati a mezzo telefonico tra spacciatore e acquirente, rendendo difficile e imprevedibile l'individuazione del luogo dell'incontro da parte delle forze dell'ordine.